Non sprechiamo l'acqua, azioni concrete per il governo della risorsa idrica. Il singolo di Fornovo Taro, Emanuele Agrenti, passa all'azione. Dopo una verifica con la Giunta, ha deciso di chiudere le fontane del suo comune che generano uno spreco di acqua al fine di ridurre il rischio di interruzione del servizio all'utenza, in considerazione anche del prolungato periodo di siccità invernale. A seguito dell'installazione dei misuratori da parte della società Montagne 2000, siamo stati informati che le fontane decorativi di Piazza Matteotti generava un consumo di complessivi 32 metri cubi di acqua al giorno, che, dopo essere stata captata, pompata e disinfettata, finiva direttamente nella rete fognaria. Uno spreco che, prima che sull'aspetto economico, incide sugli aspetti ambientali e sociali. Da qui la decisione di chiudere la fontana in attesa di approfondimenti tecnici legate all'installazione di pompe di ricircolo, o altre eventuali scelte che mirano a tutelare la risorsa. Una riduzione dello spreco che va ad incidere sulla riduzione dei costi dell'energia, sulla riduzione degli investimenti legati allo stoccaggio, per concentrare su quelli a favore del miglioramento della qualità dell'acqua e sulla maggior garanzia di continuità del servizio erogato. Abbiamo sempre richiamato il gestore alle proprie responsabilità ogni volta che ritenevamo avesse mancato agli obblighi contrattuali, ma nello stesso tempo abbiamo accolto rapidamente l'invito a non sprecare la risorsa edrica e a mettere a disposizione dei cittadini di Fornovo Taro significative quantità di acqua altrimenti non correttamente utilizzate. Il montaggio dei contatori sulle utenze pubbliche promosse da Montagna 2000 a proprie spese cura ha permesso di localizzare perdite e sprechi, primo passo per un più razionale utilizzo della risorsa. Il sindaco Grenti non nasconde le problematiche che hanno portato il gestore a rendere conto in due assemblee pubbliche dei disservizi causati dal mancato funzionamento dei filtri a servizio dei pozzi nel torrente Baganza, ma ritiene anche sia doveroso per un socio sostenere la società nel percorso di risanamento intrapreso e di cui si vedono i primi risultati. Un sostegno che deve concretizzarsi in atti concreti concertati a beneficio della società ma anche e soprattutto a beneficio dei cittadini utenti.